Signore, ben arrivato, lascia porto io valigia, trovato facile strada, padrone spiegato bene, pianta città, chiave stanza, bar, frigo, tv, se ha problema acquisto il mio telefono, porta chi vuole, niente supplemento, che cucina una settimana, anticipo 210 euro, prego. Ma questa è una barca, non è un albergo. Tu cambia idea, niente problema, due bulgari, commercio e yogurt, prende subito, tu cerca altro hotel. No, aspetta, sta compresa la colazione. L'acqua bolle. Non ho tempo, devo finire per le sei, ripasseranno più tardi. Ma gliel'avevo promesso, le cose belle fanno aspettare, Alba, vieni a prendere il tè. Vado io, non muoverti. No, vado io, comincio a pensare il tè. Ti ho detto di stare fermo. Buongiorno, giorno, sei idea? Pensi, pensavo a degli iris. Come mai proprio iris? Lei per caso è monarchica? Lo sa che erano l'emblema di Luigi VII? Deve regalarli a qualcuno? Sono per un anniversario di matrimonio. Allora prendere i narcisi o dei gigli. Ma ce li avete gli iris e sono là? Ma per chi mi prende per un commerciante? Pensa che i fiori stiano lì per i comodi nostri? Avanti mi spieghi cosa c'entrano gli iris con un anniversario. Anzi, dei giaggioni, per chiamagli con il loro nome. L'umiltà non è più di questo mondo.